Abbiamo smarrito lo spirito guida, ora andremo a cercarlo per la casa di Tekemaia. Qui non vi è. Dove sei spirito guida? Dov'è lo spirito guida? Spirito guida va a nascondersi, passare ore in solitudine e meditazione. Ecco lo spirito guida, facciam prendere un bello spaventino. Spirito guida, buonasera. Eh certo. Ma dove cazzo stai a dormire? Sotto l'albero di Natale. Vediamo l'albero di Natale nel dettaglio. L'albero di Natale di Tekemaia. Allora qui abbiamo per decorazione delle belle collane. Cos'altro abbiamo qui? Dei bigodini. Cos'altro troviamo? Così una scarpa di Tekemaia. L'albero di Natale, bigodini, collane. Le collane. Ma cosa è una volta questa cosa? La collana di Tekemaia. Io ricordo di un amore La palla. Un albero fashion diciamo. Molto gaio. No, che dice. No, che dice.